Vorrei chiarire una questione un po' antipatica, che è questa. Non dobbiamo pensare che le idee nascano come Minerva dalla testa di Giove. Perché per partorire un'idea basta un genio o un pazzo. Ma perché ci siano milioni di uomini che vanno dietro a questa idea, anche avendola capita solo a spanne, occorre che quell'idea convenga qui e ora per come quelle persone sono inserite nei rapporti di produzione. Vuol dire che se mi conviene, mi piace. Se non mi conviene, non mi piace. È come il tifo sportivo alla coscienza di classe. Ha la stessa funzione. Se un terzino dell'Inter falcia l'attaccante del Milan fuori dall'aria, tutti e due cadono dentro l'aria, l'interista sarà assolutamente convinto che non è rigore, il milanista che è rigore. E senza l'arbitro non si possono fare le partite. Non c'è niente da fare. Perché noi siamo portati a sposare le idee che ci convengono. Allora qui adesso cerchiamo di capire, a chi conviene il liberismo e a chi conviene il kinesismo? Bello. Giusto. Allora, se immaginiamo per un momento di essere ricchissimi, quindi di avere la nostra ricchezza soprattutto dalla rendita, mobiliare e immobiliare. Immaginiamo di avere un patrimonio di 500 milioni, per esempio. Qual è il nostro interesse? Se io avessi 500 milioni, il mio interesse sarebbe uno, non pagare tasse. Quindi tasse zero. Secondo, cosa che mi converrebbe è la maggior remunerazione possibile del mio capitale. La terza cosa, vorrei un'inflazione zero o sotto zero o sotto zero. Poi vorrei nessun limite geografico o legale per poter andare in giro per il pianeta alla ricerca della maggiore occasione possibile di speculazione. Se tutto questo, per poterlo fare, devo creare o concausare come effetto collaterale una recessione che produce morte di centinaia di milioni di persone, licenziamenti, disoccupazioni, fallimenti e suicidi di imprenditori, non me ne avrei niente. Ora, cosa succede? Succede che l'idea liberista, cosa dice? Frontiere valutari aperte, nessun vincolo finanziario, libertà assoluta per le banche di speculare, fare quello che gli pare, in borsa, finanziamenti, eccetera, eccetera. Abbassare le tasse. Abbassare le tasse, soprattutto sui ricchi, e quindi che succede? Basta che passa il principio, basta che passa il principio della deregulation, deregulation borsistica, valutaria e doganale, ed è fatta, perché a quel punto non c'è modo di bloccare l'inflazione e le importazioni, se non praticando una politica deflattiva, cioè tagliando la domanda interna. Tagliando la domanda interna comporta taglio dell'offerta, comporta licenziamenti, comporta diminuzione degli investimenti e quindi regressa tutta l'economia, ma l'1% della popolazione gode, è solo il restante 99% che soffre. A questo punto, se vi ricordate l'esempio del terzino dell'Inter con l'attaccante del Milan, capite benissimo la faccenda, perché la scienza non è neutra, ma la scienza è nient'altro che, ma la scienza economica soprattutto non è neutra, perché è il pensiero più funzionale che ci sia all'assetto dei rapporti economici esistenti. Cioè, è normale che la scienza sposi il punto di vista settoriale della sezione apicale del blocco sociale dominante. Cioè, voglio dire, è normale che gli economisti che vanno avanti sono quelli che sposano questi interessi e quelli che non li sposano non vanno avanti. Scusi Galloni, ma se io sono uno studente universitario che sono università e studi economia e commercio, a me che tipo di economia e finanza mi viene insegnato? Cioè, su che libri studio? Conosco veramente la teoria di Keynes? Conosco comunque... Mi faccio un'idea mia? Oppure sono incanalato a formarmi un pensiero diverso? Allora, facciamo due premesse. Allora, la prima è che non c'è mai stato un grande economista che fosse laureato in economia. Il motivo è molto semplice. Perché via via che si cristallizza una teoria, poi gli eventi e l'evoluzione sono tali per cui cambiano molti, molti parametri. La seconda ragione è che questa materia è caratterizzata per una contraddizione allo stato insanabile fra microeconomia, dove bisogna minimizzare i costi, e la macroeconomia, dove bisogna massimizzare i valori. Piccolo particolare appunto è che i costi da minimizzare sono il lavoro, l'ambiente e la salute e i valori da massimizzare sono il lavoro, l'ambiente e la salute. Quindi il campo di indagine di questa materia, per non dire scienza, è appunto il contrasto fra il livello micro e il livello macro. Mentre per esempio nella fisica, io so che quello che è vero nell'astrofisica è vero anche nella fisica submolecolare e le leggi di cui si parla, che sia la gravità, che sia il bosone di Higgs o quello che è, non variano. Invece nella microeconomia variano e come. E quello che consente di passare da un livello all'altro ed è molto affine a quello che diceva prima Nando, è la consapevolezza, è il livello di consapevolezza. Perché per esempio i singoli imprenditori sanno che riducendo i salari aumentano i loro profitti, ma come classe non si rendono conto che se tutti operano nel senso di ridurre i salari, alla fine non ci sono più compratori, non ci sono più vendite, non ci sono più prospettive di profitto e conseguentemente si riduce il valore dell'impresa. Io nella mia esperienza, sia di docente sia di studente, ho conosciuto professori che hanno insegnato cose condivisibili e professori che dicevano cose che non stavano né in cielo né in terra. Quindi lasciamo stare i professori e le università in particolare da questo punto di vista. Il punto di partenza è un altro e allora mi consenta di ricordare quello che il maestro del maestro del mio maestro che era Bresciani Turroni si sentì dire appunto dal suo maestro che era Maffeo Pantaleoni e gli stava spiegando una teoria e allora il maestro cioè Maffeo Pantaleoni era distratto e l'allievo gli dice ma ti sto spiegando sta mia teoria fiscale perché non mi ascolti e lui lo guarda e gli fa vedi di teorie economiche ce ne possono essere tante quanti i San Pietrini di Roma e batteva col suo bastoncino sopra i San Pietrini ma capire come funziona l'economia quella è la cosa difficile e purtroppo non è la laurea in economia che ci fa capire come funziona l'economia corrente questa è la sfida. E cosa ci vuole allora per capirle Carloni ecco ci vuole di essere portati per la materia e questo dipende da tanti fattori uno può essere di non avere studiato cose sbagliate all'inizio perché se uno inizia con le teorie marginali e con l'economia neoclassica dubito che poi dopo riesca a capire i vari fenomeni o quotidianamente a che fare con giornalisti operatori personaggi del mondo dell'industria e della pubblica amministrazione e via dicendo che sono laureati a pieni voti in economia però mi rendo conto che non riescono a capire come funzioni l'economia e quindi c'è un problema c'è un problema c'è per conto mio ho incontrato maestri come appunto Federico Caffè o lo stesso Paolo Leon che mi hanno invece insegnato delle cose un po' diverse questo passaggio di cui adesso ha parlato Nino è fondamentale ed il problema è di ragionare in termini micro o ragionare in termini macro se uno ragiona in termini micro giustamente diceva lui pensa di tagliare i salari tagliare le spese sulla sicurezza tagliare le spese sulla ecologia tagliare tutto il tagliabile il problema è che se tagli dei costi che sono contemporaneamente anche dei redditi che vengono spesi per consumi sul mercato interno tu stai segando il ramo su cui sei seduto ma questo lo capisci solo se ragioni in termini macro il paradosso quale sarebbe di un barista il paradosso sarebbe quello di riuscire a tagliare i salari dei propri dipendenti ma farlo solo lui mentre tutti gli altri padroni aumentassero gli stipendi dei loro dipendenti in questo modo venderebbe più cappuccini più brioche più aperitivi e sarebbe felice avendo costi inferiori ma questo è assurdo è assurdo allora se uno ragione in termini micro pensa sempre di tagliare i costi e perde la circolarità la concezione non riesce a capire che il gatto si morde la coda non riesce a capire che quello che è costo ma è contemporaneamente il reddito viene speso poi non te lo trovi come domanda e se la domanda cala diminuano gli investimenti e l'occupazione e quindi anche il PIL e il sistema tenderà a impandere a chiudere su se stesso ma vediamo se ho capito quindi in realtà per capire l'economia io dovrei fare due cose avere una visione d'insieme e attenermi ai numeri potrei riuscire a capirci qualcosa di più? assolutamente sì ma più Ptolemeo studia e peggio è più lei studia un'astronomia di tipo geocentrico e più è difficile avere la concezione copernicana cioè capire che era il contrario cioè che è invece la terra che gira intorno al sole questo è difficile da capire più uno studia in termini micro e più va bene infatti cosa vediamo i sacrifici di Monti hanno questo vizio d'origine ma voglio dire ci vuole così tanto a capire per esempio che i sacrifici di Monti hanno portato ad un aumento del debito pubblico a una diminuzione dell'occupazione a un aumento dei fallimenti a riduzione di servizi verso i cittadini voglio dire se io mi lavo un po' da tutta una serie di incrostazioni che magari mi sono state messe in testa e vado all'essenziale posso capirle come l'economia ma è ben quello il problema il problema è liberarsi di incrostazioni esattamente perché se io ho costruito 50 anni di carriera di economista liberista cosa faccio a un certo punto cambio idea mi rimangio tutto quello che ho scritto tutto quello che ho fatto tutto ciò che mi dà ricchezza e onore è difficilissimo questo è complicato ma questo lo capisco perché c'è un bel libro di un tedesco che si chiama Festinger che parlava appunto di dissonanza cognitiva cioè io mi tengo lontano da tutte le conoscenze che potrebbero mettere in discussione le conoscenze che ho già acquisito e che rappresentano un po' la mia identità anche il mio status sociale ed è di questo che parliamo però c'è anche l'altro elemento che abbiamo visto prima uno è questo ed è un problema per esempio di storia della scienza Kuhn ha scritto delle cose meravigliose sull'argomento ma un po' tutti insomma diciamo anche il grande pubblico sa che la scienza ha questo problema per cui ogni nuova teoria viene prima negata poi minimizzata ridicolizzata pure e poi alla fine gli si dice e me l'abbiamo sempre detto cioè la cosa comica questo dice la Schopenhauer prima si riferiva a Thomas Kuhn perché guardi che questa è una intervista profetica nel senso che quello che qui stiamo dicendo e ci sentiremo dire no ma cosa dicono quei due assurdo pazzesco eccetera un domani tutti diranno che l'hanno sempre detto che l'hanno sempre detto questa è la cosa comica perché l'economia funziona così non funziona cosa allora l'altra questione non di filosofia della scienza è quella che abbiamo detto prima il problema dell'interesse economico e sociale che è legato alla vittoria di una teoria o di un'altra il problema è che dal punto di vista dell'1% più ricco della popolazione servono le teorie liberiste non c'è niente da fare se poi il prezzo da pagare è la implosione progressiva del sistema pazienza per il restante il 99% il problema vero è ma una persona che alla fin fine non è ricco sfondato ma è soltanto benestante è sufficiente questo per tradire la sua estrazione di origine e sposare il punto di vista dell'1% più ricco certe volte sì e certe volte no queste sono le difficoltà che dobbiamo affrontare noi